Domenica 25 ottobre è stata una giornata che il mondo dello spettacolo farà fatica a dimenticare. Dopo la chiusura nel periodo del primo lockdown fra marzo e aprile, i cinema e i teatri chiudono nuovamente i battenti, in seguito al nuovo DPCM emanato dal governo. La rabbia è tanta, soprattutto da parte degli operatori del settore, soprattutto coloro che avevano investito in tutte quelle azioni di profilassi. Da parte mia più che rabbia c'è incomprensione, seppur comprendo la difficile situazione, e quindi chi deve decidere comunque deve farlo tenendo conto di parametri che forse a noi sfuggono, però effettivamente teatro e cinema sembravano luoghi sicuri perché erano monitorati, c'erano le distanze, tutti con la mascherina, quindi la vedo difficile il propagarsi del virus in questa situazione. In un momento nel quale sembrava potesse tutto ripartire in sicurezza, grazie al cronico utilizzo della mascherina anche all'aperto e all'attenta igienizzazione delle mani, attori, performer e artisti di ogni genere vedono nuovamente il sipario chiudersi davanti ai loro occhi. Hanno deciso, pur non volendolo chiamare coprifuoco, di togliere tutte quelle occasioni di uscita di casa dopo il tramonto. E' l'unica razza che cerco di capire, perché ovviamente per andare al cinema poi ci si sposta, dopo il cinema ci si ferma, quindi non tanto il posto in sé, così come il teatro, ma il flusso di gente che poi porta a questi luoghi. Forse per questo motivo, però io non sto né nel governo, né nel CTS, dispiace perché ovviamente soprattutto quando vengono appellate come attività non necessarie e indispensabili, ricordiamo che sono indispensabili per coloro che lavorano di quel lavoro e che quindi dalla sera alla mattina si trovano senza più un'entrata garantita. E' vero che ci saranno eventuali supporti economici da parte del governo, ma è chiara la rabbia, più che rabbia perché poi il mondo della cultura è garbato anche nell'esprimere il proprio risentimento, sono momenti di tensione e anche di grande reazione, diciamo così, del mondo della cultura. Rabbia, frustrazione e tristezza sono le uniche sensazioni riscontrabili in uno scenario ex novo, che ancora una volta si spera vada a dissolversi per sempre. La storia di teatrale non è mai partita, l'abbiamo lanciata, era in programma ad iniziare da metà novembre, ora è tutto spostato e purtroppo il teatro resterà chiuso, sperando che questo sacrificio possa portare qualche notizia numerica buona a fine novembre per poter magari programmare un dicembre a teatro che sarebbe già un buon punto di ripartenza. Grazie a tutti.